Il Benevento consolida la prima posizione nel girone C di Lega Pro, espugnando il menti di Castellammare, con una rete messa a segno da Del Pinto su assist di Scissé. Con questo successo lo stregone sale a quota 56, vale a dire 4 punti in più rispetto a Lecce, secondo in classifica, che però al momento ha una partita in meno. Impegnati nel posticipo prepasquale, fissato per sabato pomeriggio alle 14.30, i Salentini a questo punto devono battere i calabresi rosso-blu del Cosenza per ridurre nuovamente a un solo punto il distacco con i campani. Ieri pomeriggio quindi è iniziata la ventottesima giornata di campionato con le prime tre gare e in effetti balza subito agli occhi l'ennesimo successo dei Sanniti nel derby contro la Juve Stabia. Le altre partite hanno visto il successo del Matera, tra le mura amiche contro il Martina Franca, mentre la Paganese è riuscita a imporsi sul campo dell'Ischia Isola Verde. Oggi altre sfide in programma, che vedono impegnate altre dirette concorrenti alla promozione in Serie B. Oltre a Catanzaro, Lupa Castelli, Melfi-Andria e il derby tra Catania e Messina, spiccano le gare tra Casertana e Acagas e Monopoli-Foggia, tutte fissate per le ore 15. Dopo la bella vittoria contro il Catanzaro, gli uomini di Mister Braglia dovranno dimostrare di tenere il passo della battistrada sul campo del San Vito contro il Cosenza, attualmente terzo in classifica. La preparazione dei Salentini prosegue presso la cittadella dello sport di Martignano, con una singola seduta a porte chiuse. Braglia potrà contare sull'intero gruppo, con la sola eccezione di Gianluca Freddi, ancora le prese con un problema muscolare. Al suo posto dovrebbe giocare Alcibiade. In attacco, invece, dovrebbero essere confermati i tre titolari dell'ultima gara, vale a dire Moscardelli, Dumbia e Curiale.